Ciao a tutti, io sono Roberto, questa è la mia ultima chitarra che ho costruito. L'ho costruita utilizzando materiali che ho recuperato un po' in giro, tipo la cassa, erano due vecchi portellini di un mobile che ho messo insieme, ho creato una cassa armonica dentro per il suono, la parte della cassa armonica è un coperchio di un tegame, il manico è tipo pender, non so se è una strato cassa, questo non vi ricordo, è un vecchio manico. Io ho montato due pick-up, un pick-up unbucking al manico e un piezzo sotto al ponte qui. I due pick-up sono comandati da due volumi separati, quindi io posso bilanciare il suono e decidere se usare o l'unbucking o il piezzo, quindi alziamo il volume dell'unbucking, se alziamo il volume del piezzo, abbiamo la sonità un po' più dello strumento del dojo, possiamo usare tutte e due pick-up ovviamente, avere un suono più bilanciato, quindi possiamo regolare al nostro piacimento per avere delle sonità che più ci piacciono. questo è il piezzo, invece questa qui è l'unbucking, abbiamo un suono più caldo. grazie per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima vita. Ciao a tutti. Ciao a tutti.